sabato 29 settembre presso il far di rimini in piazza cavour è stata inaugurata la mostra e motions con le opere del fotografo di fama internazionale graziano villa al suo fianco nell'allestimento della mostra come anche nella vita la compagna francesca fabbri fellini nipote del grande maestro federico questa mostra si chiama e motion devo dire che il titolo è venuto di getto perché nel momento stesso che io e graziano villa abbiamo cominciato a fare la selezione delle sue immagini delle sue foto di 50 anni di carriera ogni scatto veniva fuori un'emozione un ricordo graziano ha ricevuto con la tipica eleganza di un vero gentleman i numerosi spettatori giunti a vedere la sua ultima fatica la mostra è un piacere per gli occhi molto ricca e ben assortita ci sono fotografie rielaborate in chiave artistica con effetti cromatici una stanza dedicata alla grandezza di parigi e un'altra alla magnifica roma poi ritratti di persone importanti grandi imprenditori uomini di spettacolo pensatori premi nobel e ancora moda still life copertine di grandi riviste reportage di viaggio nella sua lunga carriera il maestro villa ha veramente esplorato tutti i campi dell'immagine con un rigore e una passione invidiabile accompagnano la mostra tv e computer che ad ogni ambiente arricchiscono i contenuti con video documentativi e interviste per approfondirne la sua visione inoltre la ciliegina sulla torta a coronamento di una sincera nobiltà d'animo graziano villa ha voluto dedicare una sala della sua mostra alle foto dei suoi allievi della lava la libera accademia di belle arti di rimini un gesto apprezzatissimo per spronare ed aiutare le nuove generazioni a poter meditare sulle immagini anziché divorarle attraverso i social come la tendenza del web spinge purtroppo a fare in maniera forse troppo smodata numerose le dediche dei cataloghi fatti ad amici e ammiratori che hanno apprezzato l'esposizione con sincero e notevole entusiasmo è una mostra che io consiglio di guardare a tutti con gli occhi dei bambini perché i bambini guardano il mondo continuamente considerandolo come un grande indovinello e così cerchiamo di addentrarci nei saloni di questo bellissimo spazio che fa la fabbrica di antirimini con gli occhi dei bambini Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, il maestro Henri Cartier-Bresson diceva sempre che fotografare significa mettere sullo stesso piano la mente, gli occhi e il cuore questo è un grande fotografo, io credo che in questa mostra si percepisca che Graziano ha imparato a vedere attraverso le sue immagini e ha imparato ad ascoltare le sue foto buona visita a tutti E-Motions E-Motions E-Motions